Musica E si chiama NOW il nuovo e speciale insegnante di un istituto omnicomprensivo in provincia di Arezzo. Si tratta di un robot umanoide che risponde alle domande così come fa attività fisica insieme agli alunni. Il suo ruolo motivatore aiuta docenti e ragazzi, serve ad apprendere i nuovi linguaggi dell'informatica e sono stati i ragazzi stessi a programmarlo dalla redazione della TGR Toscana Costanza Mangini. Mi presento, il mio nome è Maranao. 25 motori che rendono questo robot simile all'uomo, con capacità di interazione avanzate. Posso muovere testa, braccia, mani e gambe. 4 microfoni intorno alla testa gli consentono di girarsi in direzione della provenienza del suono. Dispendo di 9 sensori tattili ed 8 sensori di pressione per capire se mi toccate. Nao, in questo istituto omnicomprensivo di Foiano della Chiana in provincia di Arezzo, verrà programmato dagli studenti per operazioni base o avanzate. Potete programmarmi utilizzando uno specifico software. In questo momento sto cambiando la lingua per precisione, mettendo da inglese o giapponesi che sono di default in italiano. Maranao è stato acquistato dall'istituto Marcelli grazie a fondi sociali europei, una scommessa educativa in una società in costante trasformazione, giovani generazioni iper tecnologiche ma troppo spesso autodidatte. Come è strutturata la schermata grafica che utilizziamo per fare la programmazione? Abbiamo nella zona centrale la cassetta degli attrezzi, i personaggi e quindi tutte le icone che possiamo utilizzare per programmare la nostra storia, giusto? Sì! Un linguaggio intuitivo di programmazione che anche i più piccoli sono in grado di apprendere quando si trovano in un laboratorio di robotica educativa. I ragazzi in questo modo hanno un problema da affrontare, trovano la soluzione, acquisiscono il cosiddetto pensiero computazionale. Infatti la robotica educativa aiuta a sviluppare la logica, un processo che serve a preparare le nuove generazioni al mondo del lavoro attraverso la crescita delle competenze. Ecco, questi ragazzi hanno bisogno di motivazioni forti e attraverso il NOW noi siamo in grado di ravvivare in loro questa spinta al fare attraverso una didattica laboratoriale che rovescia in un qualche modo l'impianto della lezione frontale dalla cattedra agli studenti che ascoltano e restituiscono. Open your hand. Which hand? Right. All right. Sicuramente è uno stimolo per i ragazzi, visto che appunto il NOW non comprende se la pronuncia non è esatta. È un'esperienza pilota fatta con l'apporto di tutti i docenti. Poi in questo caso noi vediamo uno strumento, perché è uno strumento, di questo stiamo parlando, che può far interagire i ragazzini dalle elementari fino ai ragazzi delle superiori. Creando una sorta di continuità importantissima anche in funzione di proiezione e di integrazione ma anche di proiezione futura nel mercato del lavoro e nel mondo del lavoro. Spero di vedervi presto alla scuola di Foiano per fare coding tutti assieme. Vi saluto. E ancora altre immagini mai viste prima d'ora con questa risoluzione. Le cellette delle api sono state riprese da un gruppo... ...